Un sorriso per amico, un sorriso per Camilla, si intitola così il pomeriggio benefico, il secondo, che è organizzato per domenica 9 giugno alla fattoria didattica a Maghensani a Grinido Piccoli Frutti di Via Marcantona al Buschetto a Cremona. Un momento dedicato al ricordo di Camilla Vezzoni, bimba di 5 anni, volata in cielo nel dicembre 2022 a Pia della Drizzona. Una bimba bellissima, da sorriso dolce e felice, costretta con i suoi cari a affrontare la prova ingiusta dell'operazione al cuore e della leucemia. La giornata sarà un pomeriggio aperto a tutte le famiglie, ma anche adulti che vorranno venire a farci visita. Un pomeriggio con laboratori naturali, quindi laboratori che faremo noi come fattoria didattica. Ci saranno anche i clown dell'Associazione Dal Naso al Cuore per rallegrare la giornata con balli, canti, musica e quant'altro. Avremo anche uno spazio rinfrescante offerto da Coldiretti Cremona e poi ci saranno chiaramente anche gli animali della fattoria, che quelli sono sempre presenti. Per una giusta e un'ottima causa. Quest'anno abbiamo anche deciso di preparare delle magliette e delle shopper bag con diverse stampe grafiche per contribuire a migliorare l'offerta per queste associazioni. Ecco, perché Camilla la vogliamo ricordare col sorriso? Sempre col sorriso. Camilla non ha mai smesso di sorridere fino al suo ultimo giorno di vita e quindi sicuramente la giornata sarà all'insegna del sorriso così come era Camilla.